buongiorno allora oggi guarda che facciamo un incidente e andiamo all'ospedale stiamo andando al concerto di martin garrick justin garrick questo sarebbe il nostro primo vlog probabilmente spaccherò l'iphone al concerto ma no no ma non lo vederti neanche perché lo perde allora perché non zumba e lui sta mangiando il riso con le mani raga adesso è lunga non ti danno le cosine non ci sono le barchette allora come fanno gli youtuber quelli seri che fanno tutto adesso andiamo a parcheggiare adesso però io non sono uno youtuber serio quindi non lo faccio e cosa dici e quindi non parcheggiamo come che fa quello scemo di della gang gang bufu 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 siete tutti degli stupidi bufu brane della favola ma non mi quadrare così vicino sai cosa dovremmo fare adesso una di quelle cose fighissime ma il tuo cos'hai il 7 il 7 plus car mi dispiace sai cosa facciamo lore adesso facciamo una di quelle riprese fighissime con la musica dove si vede tutta la strada che va va bene lorenzo quindi adesso dovremmo fare anche la transizione figa con le nostre facciazze a fianco al finestrino ok orco 2 cosa è successo ho preso una musata sotto la portiera è quel naso lì che niente da fare orca troia allora dato che noi siamo professional guarda qua che bella luce siamo arrivati agli high days non siamo proprio agli high days in un parcheggio a cazzo di cane faremo gli schifosissimi proprio merda beviamo mangiamo trombiamo non lo so saluto Antonio ciao Antonio che è la protagonista di questo video vieni qua vieni qua sulla macchina vabbè dai non è la nostra sai cosa faremo adesso? bella F***a facciamo così Ti touch mi tra lalla Vai di din din dong Gare 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 gà Bella Fa finta di cattare perché non la sa Collini ci...eh vabbè dai basta Ci stiamo incamminando Dobbiamo farci due chilometri a piotti Come si dice qua da noi a piotti A piotti Orca troia le piante Per andare agli high days insomma no? Siamo belli carichi Che noi siamo sempre più capaci di fare i vlog Non fanno dei corsi online Esatto tipo come fare i vlogging E no Lo sto facendo perché poi mi pulisco il culo Adesso prendo e faccio così E via E questo è quello che serve il video E' la carrozza di Gesù Nazare Si il moscato perdiamo Ragazzuoli noi siamo entrati L'abbiamo fatta I controlli sono estrati Sono estrati I controlli sono stati proprio grandiosi Siamo passati di fianco e ci hanno fermato in quindici Non è vero manco mezzo Non c'era nessuno Non c'era un cazzo di nessuno quindi Niente Merco Allora allora Siamo entrati nella fila ufficiale E niente Ci hanno fatto rimettere la maglietta Ci hanno fatto rimettere la maglietta Io ero nudo Anche lui era nudo Anche lei era nuda No no Visual visual Basti fa vedere Uno Due Rispondi in modo eccentrico Sì è il mio Proboscide Sì Per il vomito cosa fa? Siamo al vomito Grazie Devo impiegare il cazzo Pranto? Ragazzuoli c'è pure la salita Oltre al sole C'è anche la salita Cioè la salita Possibile che noi andiamo al concerto Pagliamo 60 euro per fare la salita No Esatto Raga qui c'è Cioè dov'è dov'è? Guardate sto caffetto Guardate guardate È bellissimo È bellissimo Il mini stage Il mini stage Non buttare i soldi Ma è una figata Lorenzo Ehi Com'è la giornata allora? Molto calda Molto calda Molto Molto Mi sto grattando il cazzo Perchè mi siete in mano Perchè mi finirei grattando il cazzo Vai Di un po' di caldo Guarda quanti rotoli Guarda quanti rotoli Sai che Ah Che cosa? Raga guardate quanto cazzo si ha volentato sta ragazza Minchia ma è una cosa pazzesca Ma tempo record proprio Minchia Guarda il segno Viva le tette Si che tette poi Si che tette poi L'esco E' una cosa pazzesca Non è ancora Non è ancora Non è ancora Ma tempo Perchè Ma tempo No 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 E' lo finito e adesso siamo seduti un attimo perché fa un caldo della Madonna, poi c'è il sole che non vuole scendere perché... Infatti è lì da mesi Siamo in Norvegia porca funtana Quindi adesso aspettiamo il live di Justin Bieber Ci vediamo dopo, ciao! Siamo in Norvegia Ch male Sì No, 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 no. No, 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 no. E' un casino. Io non vorrei essere... cioè, non vorrei essere loro. Ragazzi, hanno... hanno ingabbiato la figa? Ma stai zitto, cazzo! Ave Maria, piena di grazia. Signore è con te. Abbiamo trovato l'after park, ecco qui. L'after park, un sacco di gente. Rega, rega, guardate che bello, guardate. Oh! E ovviamente... Siamo dei maiali. Siamo qui, insomma. No, che salsè. Sempre qui. Guardate lei come è diventata rossa. Allora. Siamo arrivati a casa. Guardate, poco abbronzato. Sto mori male. E basta. Quindi speriamo che questo vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un mi piace, lasciate un commento, lasciate tutto quanto. E ci vediamo al prossimo concerto di Just in Galax. Domani? Domani? Andiamo, 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 domani, domani. Domani mattina ci svegliamo e andiamo al concerto, eh. Quindi ci vediamo lì. 15. 15, 16, 12, 11, 1. Ciao!